Buongiorno ragazzi, è arrivato il caldo ma mi è arrivato anche il ventilatore senza pale di Xiaomi da Banggood che ringraziamo e vi lascio il link in descrizione e quindi al grido di Dyson non te temo andiamolo a vedere Scherzi a parte non può fare concorrenza a Dyson, è semplicemente un gadget da scrivania, un ventilatore da scrivania piuttosto piccolino 227 mm x 145 mm ma molto bellino, un design molto minimale come vedete è disponibile solo in bianco è un ventilatore da 8 watt senza pale, che vuol dire senza pale? Innanzitutto non li ha inventati Dyson sti cosi ma non è neanche vero che non c'ha le pale perché il ventilatore è posto qui alla base, spara l'aria verso su, viene convogliata in questo cilindro esce dalla parte posteriore e per la naturale propensione dell'aria a seguire le superfici dove passa si crea una sorta di vortice e l'aria che esce è un pochino più omogenea e soffusa diciamo inoltre ha il vantaggio che prende l'aria che preleva oltre che da sotto anche dalla parte posteriore è un ventilatore da 8 watt, 3 velocità, abbiamo un pulsantino per accenderlo e una terza velocità la prima è abbastanza moscia e le altre due sono ottime non è neanche particolarmente rumoroso, 40 db alla velocità massima non è solo però un ventilatore, come avete già visto è anche dotato di una luce led da 1 watt a 300k di gradiente di calore diciamo del led e quindi non è una lampada che illumina ma è una lampada un po' geek già insomma è un oggetto molto di design, molto carino, molto bellino e con il led acceso è ancora più figo ma non è finita qui ha un'altra, una terza funzione che è quella di umidificatore ora ve lo faccio vedere si dovrebbe vedere con una pressione pollungata del pulsante e quello della luce si accende l'umidificatore, vedete guardate come spara l'umidificatore oltre che a umidificare ha il grande vantaggio che l'aria che esce è ancora più fresca di quella che sarebbe normalmente ora lo spegniamo però non ho provato ma suppongo sia possibile mettere anche delle fragranze all'interno dell'umidificatore quindi oltre all'umidificatore diventa anche un diodorante ambientale questo è l'umidificatore che si estrae ha un contatto magnetico molto facile da estrarre viene fornita una pipetta per la ricarica è un serbatoio da 60 millilitri vi consiglio sempre di non utilizzare l'acqua del rubinetto che è sempre un po' dura e ci mette un attimo ad attappare gli ugelli dell'umidificatore umidificatore invece da 1.5 watt è anche possibile oh ecco una cosa all'interno della confezione non è presente il caricatore serve un caricatore da 2 volt 5 volt 2 ampere però troviamo la pipetta appunto per la ricarica manuale in inglese anzi bilingue quindi anche in inglese che è tutto sommato e comodo ma una cosa che non c'è scritto nel manuale è cosa diavolo sono questi e ora scatta il contest il regalo, il porta chiave di Xiaomi Today a chi indovina e chi mi spiega che cosa diavolo è questo perché all'interno c'era questa specie di ugello di pipetta non lo so c'è una filettatura ma che io giuro non può essere avvitata da nessuna parte e due tamponi eccoli qua sembrano proprio quelli che si usano nelle fragranze che si assorbe e si inserisce da una parte ma io non ho trovato nessuna parte dove inserirlo quindi lascio a voi e a chi indovina giuro gli arriva questo porta chiavi e tutti i miei ringraziamenti 25 euro quindi neanche tanto con 25 euro ci comparto un ventilatore normale ma questo è un oggetto oltre che utile è anche molto carino e sicuramente fa la figura sulla scrivania io pensavo di averlo provate solo ma penso che lo terrò in piatta stabile almeno per tutta l'estate vi lascio in descrizione il link d'acquisto su Bengood e un codice sconto appunto dedicato proprio a questo prodotto vi ricordo e vi suggerisco di utilizzare la scrizione Priority Line così in 12 giorni, 14 massimo ce lo avete a casa che dire, pensavo fosse una minchiata e invece alla fine mi è piaciuta quindi promosso si è dimenticato qualcosa? se ci avete altre domande da farmi sono sempre qui a disposizione per adesso è tutto ciao da Simone e buona giornata buongiorno ragazzi è arrivato il caldo ma a me è arrivato anche il ventilatore senza lame no che senza lame